ecco un altro intervento sempre all'interno di un garage nell'intervento che facciamo cerchiamo di mettere sempre in protezione la parte dei ferri che ormai è ammalorata anche per quanto riguarda le bocche di lupo quindi un bel passaggio di mappe fer serve a garantire e a trattenere di più la presenza della ruggine vedete in questa zona come sono state trattate tutte le lastre predal che era un oggetto di grande infiltrazione ci sono dei punti in cui vediamo ancora le stalattiti presenti e il ferro ammalorato in queste zone qui inietteremo nei prossimi giorni della resina che fuoriferà saturando tutta la lastra predalla e completerà il lavoro di impermeabilizzazione ovviamente garantendo la saturazione non vedremo più acqua l'iniezione della resina ad altra pressione e con l'espansione della resina idroreattiva garantirà questo scudo questa protezione su tutta la parte di superficie